Il re di Svezia è presente a Bastad per l'incontro di doppio di Coppa Davis tra italiani e svedesi. Gli azzurri hanno vinto i due primi singolari e la gara tra le coppie Pietrangeli, Sirola e Davidson Johansson è decisiva agli effetti della finale europea. I nostri due moschettieri della racchetta dominano gli avversari e li battono nel volgere di 4-7. L'indomani gli azzurri conquistano altre due vittorie portando il risultato a 5-0. È un autentico cappotto svedese. Il re di Svezia, figlio di un grande tenista e ottima racchetta a sua volta, si felicita con gli italiani per la vittoria. Ora c'è l'incontro con gli Stati Uniti. Saremo finalisti mondiale? Speriamo.